Il processo evolutivo del divenire. Punto F attraverso Francesca R 3 marzo 2024 a cura di VB. Vissuto gli effetti affrontati, le nuove cause mosse nel cammino che porta a essere, quello che è il processo evolutivo del divenire, che non vuol dire andare avanti, indietro, di lato, di fianco, ma vuol dire rendersi consapevolmente conto di essere e di manifestare soltanto lo stato del divenire. Ti è chiaro? Sì. Quindi in questo momento si trova in questa fase che è la migliore in cui potrebbe trovarsi. Successivamente lo stato dell'essere arrabbiato verrà lasciato sicuramente. Non è arrabbiato in questo momento, però questo è importante. Grazie. 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 Grazie.